alz benvenuti sul padrino 2 appena si chiama più tardi facciamo un giro al club ok niente siamo tornati perché oggi avevo in mente di puntare questo video perchè volevo rapinare questa banca americ credit union che è proprio vicino a una stazione di polizia no? arrivo dominic è andato è andato stronti stavo pensando di partecipare al corso di cucito di mia sorella è pieno di belle figliole ah ecco perchè bene partiamo sistema di guida non siamo fuori più scopi un amico apparentemente si tratta di professionisti quest'ultima rapina ha riportato all'attenzione la questione della sicurezza delle banche i cittadini pretendono una maggiore sorveglianza chissà perchè è il posto ideale per una bomba capo che bomba aspetta un attimo tutto tuo togliamo una corrente così non non prenderò qualche ciambella ok lo vedi? laggiù? posso farlo fuori benf vuoi la guerra? che guerra sia? via sei armato metti giù con l'arma mi spiace perchè non parte niente? ah beh ok non muoverti a me non mi fanno niente che bendo io entro eh buongiorno che razza di mondo il criminale il criminale si sistemati buongiorno facciamo in fretta forse vai su gp ma questo fatevi da parte penso di poterla aprire bene facciamo in fretta prendiamoci tutto ah la cassa fronte già l'avevamo torn vabbè scappiamo muoviti no vabbè ho capito aspetta dove hai casa aiuto che è successo? merda qua giù aiuto bene adesso si fa così vai vediamo dove cominciare bene ecco qua questa banca vediamo un po' cosa fare parcheggiamo no uccidere una donna devi avere qualche problema fuori dai piedi presto sarà finita posso togliere la corrente capo che cazzo è successo? che cazzo è successo? è ora che voi bastardi abbiate quello ce n'è un altro con chi credi di avere a che fare? fammi fare a modo mio ma ti pare aspetta 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 aiuto non pensare non pensare nemmeno forza aprila dai va giù non pensare nemmeno un altro giro proviamo a separarci faccio saltare tutto ho la combinazione capo fai saltare tutto via è armato metti giù quell'arma vieni subito fuori marda un altro qui la situazione è sparvente via ragazzome batti dai piedi non pensarci nemmeno ehi bella macchina a te non chiama se hai bisogno lo vedo ho la spalla scappa prendi questo le macchine ma caccia marda qua giù ora a toccarmi la ci proverò più tardi ma 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 bene ora che abbiamo dei soldi andiamo al palazzo del granatus e non dobbiamo fare salentare in aria molto semplice no? c'è pietra avete un punto in defesa vedevile quella cosa arrivare no tutti devono morire prima o poi Dov'è? 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 Ah ma sta lì qua Peccato Ce n'è uno molto vicino Merda! Cazzo mi hanno fatto... Un'arma! Un cecchino! Al riparo! Un peccato! Bene, bene, ottimo. In modo che sia una cosa rapida. No, non ucciso che sia in Rialand. Occhio, un cecchino. Oh, ecco qua. Arma. Mp-38. Bene, sono il meglio del tono. Bene, in donna del ganato si è morto. Quando ho cato. Aspetta. Più scatto. Aiuto. Fuggi. Ok, siamo fuori da un panazzo. Quindi mo... Vangono... Ecco fatto. Lo stronzo non merita una forza. Va bene, ragazzi. Dai, il video può finire qua. Abbiamo rapinato due banche. Abbiamo distrutto il palazzo del Ganados. E quindi abbiamo sconfitto una famiglia. Se volete altri episodi su un padrino 2, ditemelo. E noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.